Gabriele, riprovi la scalata al milione. Questa è la prima domanda dell'anno. Vuoi cambiare il tuo capodanno a Resolution Festival in una notte con una cena al poio ricco, un ragazzo che picchia la sua fidanzata alla fermata della metro, uno scippo nel ghetto dietro casa, un uomo sanguinante e sfigurato da una bottiglia lanciata in rambla, un'attesa di un'ora e mezza prima di essere rifiutato all'entrata della festa per la quale hai pagato il biglietto perché hai dimenticato la carta d'identità. E alla fine, 40 minuti prima di entrare al Moog, tra puttane, tossici e il medio del Raval? Sì! Bravo! Ho notato dei miglioramenti, li apprezzo, ma per me comunque è un no!